Appuntamento ad Orvieto. L'Orvieto con l'Orvieto Wine Cross, sesta prova del Giro d'Italia di ciclocross con una presenza e partecipazione davvero straordinaria di concorrenti. Oltre 350 al via, il nostro Pasquale Punzi sistema la micro telecamera sulla bici di Stefano Capponi per i colori dell'acqua e sapone. Siamo alla partenza della categoria Elite, la gara più interessante, la gara più attesa di questo Giro d'Italia ciclocross sullo stesso percorso nel Parco Fluviale delle Paglia che ospiterà il prossimo anno nel 2014 campionato italiano di ciclocross. Le immagini della soggettiva, come dicevamo dalla micro telecamera piazzata sulla bici di Stefano Capponi, ci regalano queste immagini e questa avventura della categoria Elite. Un gran bel numero di concorrenti alla partenza di questa categoria Elite. Li vogliamo ricordare, primo tra tutti con il numero 1 Marco Aurelio Fontana a Cannondale Factory Racing, con il numero 3 Mirko Tabacchi del gruppo sportivo forestale e poi abbiamo via via tutti gli altri che si presentano per questa competizione. Marco Aurelio Fontana con il numero 1, vedete nelle primissime posizioni alle spalle di Mirko Tabacchi con il numero 3 e poi via via il resto del gruppo. Una bella sorpresa quella di Marco Aurelio Fontana, il medagliato delle Olimpiadi di Londra, ha voluto partecipare a questa gara per riprendersi e per mettersi in forma, ci sono i campionati italiani da fare. Con il numero 6 passa anche Angelo Mirtelli della Cioceria Bike, mentre il nostro Stefano Capponi corre con il numero 13 e lo vedremo in gara con il numero 13, quello che ci regala le immagini che state vedendo da questo passaggio. Corre per i colori della Moser Cingling Team Acqua e Sapone. Con il numero 12 invece che avete visto passare Flaviano Mogavero della Technicolor Vernici che è in quattordicesima posizione. Diamo dunque uno sguardo con in testa in questo primo passaggio Mirko Tabacchi, numero 3 per il gruppo sportivo forestale. Con il numero 1 in seconda posizione Marco Aurelio Fontana della Cannondale, con il numero 5 in terza posizione Fabio Ursi della Protec e poi con il numero 37 Brian Falaschi della Selle Italia Querciotti. Più staccato con il numero 28 è Luga Braidot del gruppo sportivo forestale, vincitore della gara che c'era stata a Roma per quello che era il Memorial Romano Scotti. E oggi impegnato in questo Giro d'Italia. Come dicevamo la manifestazione ha un percorso che ricalca quello che sarà i campionati italiani del 2014. Intanto attenzione perché Marco Aurelio Fontana è passato in testa il sorpasso in questo momento nei confronti del numero 28 Luca Braidot che era nelle posizioni di testa e adesso a condurre invece Marco Aurelio Fontana. Dicevamo il percorso che ricalcherà quello che sono i campionati italiani che si svolgeranno proprio qui a Dorvieto nella zona di Ciconia, al parco fluviale del Paia nel mese di gennaio del 2014. ha uno sviluppo di 2.900 metri, tre strappi in salita con due ostacoli artificiali posizionati dagli organizzatori con un percorso particolarmente duro e difficile viste le abbondanti piogge della settimana. Siamo proprio nella zona che è stata colpita dall'alluvione del mese scorso, non è l'acqua dell'alluvione il fango che vedete, è l'acqua solamente dell'ultimo temporale che c'è stato. Intanto con il numero 15 anche Giovanni Gatti che corre per i colori della Scott Liniz con il numero 15. Poi con il numero 8 un passaggio su questo tratto particolarmente difficile, ricco di fango, è Simone Masciarelli che corre anche lui per i colori dell'acqua e sapone. Dicevamo l'acqua che vedete, il fango che vedete non è quella dell'alluvione, sia ben chiaro, anche se la zona di Orvieto ha subito davvero forti danni. È il risultato delle piogge abbondanti dei giorni scorsi, ha piovuto di continuo, il percorso è rimasto. Dunque come lo vedete. Pasquale Sirica numero 34, cycling team città di Sarno, in questo momento è in diciottesima posizione alle spalle di Giovanni Gatti. L'organizzazione è curata da Alessandro Ricci della Eurobici di Orvieto, un appuntamento davvero importante per lui. Intanto qui, attenzione, c'è lo stacco con la bici del nostro Stefano Capponi, che rientra ai box, per lui un problema meccanico, mentre era in settima posizione costretta a cambiare bici e quindi ad abbandonare anche la nostra micro telecamera. Ai box Stefano Capponi, mentre noi intanto andiamo a dare un'occhiata a quello che sta succedendo nelle posizioni di testa con un Luca Braidot numero 28, gruppo sportivo forestale, che se la sta giocando testa a testa. Eccole le immagini di Pasquale Punzi con Marco Aurelio Fontana, numero 1 Cannondale Factory. Al terzo posto c'è Mirko Tabacci, gruppo sportivo forestale anche lui, e poi più staccato Brian Falaschi della Selle Italia Querciotti, numero 37, Fabio Ursi con il numero 5 del team Protec, e poi abbiamo Marco Ponta, numero 4 del centro sportivo dell'esercito, dietro di lui c'è Nicolas Samparisi della Protec numero 26, Igor Smarzaro numero 25 della Palazzaco Eledent, e poi più staccato il nostro Stefano Capponi della Moser Ciclin Team, che è stato costretto, come avete visto, a entrare ai box. Più dietro c'è in decima posizione Fabio Alfonso Todaro della Selle Italia Querciotti, Tommaso Caneva della Merida con il numero 32, Angelo Mirtelli con il numero 6 della Cioceria Bike, e con il numero 22 Andrea Masciarelli della Acqua e Sapone. Quattordicesimo è Paolo Pavoni, numero 9 del team Cobo Pavoni, che abbiamo visto tante volte nella nostra avventura Umbra dell'Umbria Master Cross, e poi abbiamo Giovanni Gatti con il numero 15 in diciottesima posizione, che è dietro Luca De Nicola della SS Lazio Ciclismo, Francesco Acquaviva del team Brilla e Simone Masciarelli dell'Acqua e Sapone. Duello testa a testa dunque tra Luca Braidot, numero 28, Marco Aurelio Fontana, numero 1, e Mirko Tabacchi, numero 3, per conquistarsi dunque la vittoria di Orvieto. È stato fatto un gran lavoro qui nel Parco delle Paglie, è stato fatto davvero un lavoro straordinario da parte degli amici dell'Eurobici, con un ringraziamento particolare che va all'amministrazione comunale, alla FederCiclismo Umbra e soprattutto allo sponsor di questo appuntamento, di questa gara Umbra del Giro d'Italia ciclocross, alle Cantine Barberani, Cantine Barberani che hanno presentato qui davanti a tutta la loro produzione il nuovo vino bianco che ha ottenuto brillantissimi risultati in terra americana. Ma continuiamo ancora a andare a vedere come stanno le cose con questi passaggi sul lungo, il percorso come abbiamo detto misura 2.900 metri, molto particolari con questi piccoli fossetti che con l'asciutto vengono praticamente saltati ma con il fango diventano davvero un problema. Intanto passa in testa Marco Aurelio Fontana, numero 1, Cannon dal Factory, con il secondo posto che in questo momento è testa a testa tra Mirko Tabacchi e il suo compagno di squadra Luca Braidot, numero 3 per Mirko Tabacchi, numero 28 per Luca Braidot, tutte e due del gruppo sportivo forestale. Il passaggio per il numero 6 Angelo Mirtelli, vedete ci sono questi pezzi lunghissimi di rettilineo, qui ci si potrebbe scaricare davvero molto di potenza e di velocità ma il fango permette davvero poco. l'importante sono sicuramente le coperture, coperture da bagnato e da fango che devono fare la differenza e che fanno davvero la differenza quando si scelgono davvero molto bene. Bici da cross che è completamente diversa da una bici da strada anche se la fisionomia è quella, così come è diversa anche la fisionomia da una bici da mountain bike, con un assetto tecnico completamente diverso e con una scelta fondamentale quella delle ruote che permette dunque di comprendere e capire come possono andare le cose. Chi sbaglia le gomme in una gara come questa davvero ha poco da raccontare e poco da ragionare. Intanto con il numero 8 avete visto inquadrato Simone Masciarelli della Acqua e Sapone, poi abbiamo con il numero 9 se non andiamo errati Paolo Pavoni del team Cobo Pavoni che in questo momento si trova in 14esima posizione. Dicevamo hanno lavorato davvero tanto gli amici dell'Eurobici di Orvieto, ci tengono. Lo scorso anno era una bellissima giornata di sole, non c'era sicuramente il fango che possiamo raccontare quest'oggi. La salita questa non si faceva con la difficoltà, come vedete questo strappetto come viene fatto con difficoltà, con i piedi che affossano nel fango, però il ciclocross è anche questo. Il ciclocross è soprattutto inverno, è fango, è difficoltà e questa simbiosi particolare con la bici. Intanto con il numero 3 passato in seconda posizione Mirko Tabacchi. Il distacco ora tra Marco Aurelio Fontana e Mirko Tabacchi è di quasi 30 secondi. È aumentato il vantaggio. Mirko Tabacchi è andato a finire in seconda posizione, più staccato è Luca Braidot che avete visto con problemi meccanici con la sua bici sulle spalle. Il problema meccanico è lì sempre dietro di te l'ombra di dover forare o di avere un problema e quindi dare il cambio della bicicletta dà davvero grossi problemi. Una curiosità, vedete che sulle bici non ci sono i numeri. Gran parte dei corridori il numero lo portano o sul casco o sulle spalle, oltre che dietro per essere riconosciuti dai giudici perché ovviamente mettendo il numero sulla bici nel caso in cui si debba cambiare la bicicletta e lasciarla ai box e prenderne un'altra si perde il numero e quindi i ragazzi che corrono scelgono tutti di voler lasciare il numero direttamente sul casco in modo che non ci si possa sbagliare nella lettura. Intanto è passato con il numero 26 per i colori del team Protec, della Bona, Nicolas Samparisi e poi via via il resto del gruppo. Dobbiamo ringraziare pubblicamente il nostro Stefano Capponi che si presta sempre per tenere la micro telecamera. È una persona di grande squisitezza, è un corridore giovane che sicuramente sa dare molto alla bicicletta non solo nel ciclocross ma anche nella mountain bike e dobbiamo ringraziarlo. Intanto è l'ultimo giro per Marco Aurelio Fontana, Cannondale Factory che è oramai allungato nettamente, eccolo qua il nostro Stefano Capponi con il numero 13 ed è l'ultimo giro per il medagliato di Londra Marco Aurelio Fontana, Cannondale Factory che sta chiudendo sotto al minuto 55-58 il suo tempo ed ha un vantaggio di 1 minuto e 10 nei confronti di Mirko Tabacchi, secondo in classifica con il numero 3 del gruppo sportivo forestale. La terza piazza è per Brian Falaschi, Selle Italia-Querciotti con un ritardo di 1.40, terzo abbiamo detto Falaschi, quarto Fabio Ursi del team Protec con il ritardo di 1.57 e poi Luca Braidot numero 28 dello sportivo forestale dell'esercito e poi Marco Ponta del gruppo sportivo forestale e poi sesto Marco Ponta del centro sportivo dell'esercito con il numero 4. Eccolo qua, con il numero 1 Marco Aurelio Fontana, Cannondale Factory, abbraccio per lui con i complimenti degli avversari, arriva anche Mirko Tabacchi con il numero 3, è il secondo di questa giornata orvietana. Terzo è Brian Falaschi, Selle Italia-Querciotti con un ritardo di 1.40, con il numero 37, intanto lo vedete stanco il nostro Brian Falaschi, la terza posizione però c'è tutta e complimenti davvero a lui. Adesso la premiazione con il podio, Barberani consegna il trofeo di questa orvieto Wine Cross 2012 a Marco Aurelio Fontana con la sua vittoria davanti a Mirko Tabacchi che abbiamo visto in questo momento sul podio, gruppo sportivo forestale e il terzo è Brian Falaschi della Selle Italia-Querciotti. E poi diamola un po' la classifica per vedere, Fabio Ursi è quarto della Protec davanti a Luca Braidot della forestale, Marco Ponta, centro sportivo dell'esercito e sesto, Nicolas Samparisi, team Protec della Bona, davanti a Igor Smarzaro della Pellazzago-Ellenente, e poi Stefano Capponi in nona posizione, bravo Stefano Capponi, nonostante il problema meccanico della Moser-Ciclin team, e decimo è Alfonso Fabio Todaro della Selle Italia-Querciotti, compagno di Brian Falaschi. E adesso andiamo a vedere la categoria Elite e Junior delle donne, la categoria unica con le ragazze che partecipano, sono davvero tante, tra queste ci sono poi ragazze che sono davvero di nostra conoscenza, così come c'è la nostra Perugini, la Perugini che è stata campionessa italiana, la Romina Perugini che corre per i colori della Bikeland Team, e poi Laura Sopranzi che corre per i colori del Centro Bici Team di Terni, e la Maria Dele Tuglia che corre per i colori del Centro Italia Bike Montanini. Maria Dele Tuglia numero 98, Laura Sopranzi al numero 100, la Romina Perugini, tanto per ricordare coloro che sono di nostra conoscenza, corre con il numero 110, ma andiamo a dare uno sguardo a quella che è la classifica di questa categoria donne unica, vedete mamma Sopranzi che è lì a controllare le situazioni, a controllare la sua Sopranzi, la sua Laura che va davvero grande nel ciclo cross in questa stagione, ha migliorato davvero molto. Intanto per il Centro Sportivo dell'Esercito c'è la numero 80 Eva Lechner che sta andando davvero molto bene, dietro di lei c'è Francesca Caus della Fassa Bortolo, Servetto con il numero 84, Francesca Cuciniello che va molto bene devo dire in questa giornata di Orvieto con il numero 86 della Sella Italia Querciotti in terza posizione, e poi abbiamo Vania Rossi con il Centro Sportivo dell'Esercito numero 81 con Valentina Scandolara della Libertas Scorsè in quinta posizione, la prima delle categorie donna di categoria diversa ovviamente perché ci sono donne elite e donne che non sono elite, con la categoria donne unificate c'è la Maria Lecce Arzuffi della Sella Italia Querciotti che precede in settima posizione Elena Valentini della Sella Italia Querciotti e poi Alessia Bulleri numero 85 della Scott Racing Team, Francesca Gariboldi della Lissone MTB e con le donne junior c'è Francesca Rebecca Gariboldi, come abbiamo detto numero 167, Jenny Fontana che corre per i colori della Milavittirano Bike, la Woman 1 Milena Cavani della Serra Mazzoli, dietro di lei c'è Maria Dele Tuglia del Centro Italia Bike Cicli Montanini con il numero 98 e poi come donna junior ancora Chiara Tirocchi con i colori della TX Active Bianchi che precede un'altra donna junior Elena Torcianti Superbike Team. Beh, bisogna fare la differenza perché in queste categorie raggruppano oramai la donna unica, prima c'erano due categorie e adesso invece sono diventate donna unica. Con il numero 167 è proprio Rebecca Gariboldi della Lissone MTB, grande il tifo, esce anche un po' di sole ad illuminare questa giornata delle donne e intanto con il numero 80 è sempre Eva Lechner, centro sportivo dell'esercito che sta tirando l'andatura davanti a Francesca Cautz della Fassa Bortolo numero 84 e Francesca Cuciniello numero 86. Piano piano vi daremo anche la visione più completa di questa situazione, intanto vedete il passaggio nei box, questa è Romina Perugini che corre con il numero 110, è stata campionessa italiana la nostra Romina Perugini, l'abbiamo celebrata con grande soddisfazione. Le immagini ci portano a far vedere il percorso con la Giorgia, è la nostra Giorgia Fraiegari che corre e che è giovane, molto giovane, ma che ha una grinta e un cipiglio davvero meravigliose. Giorgia Fraiegari corre per i colori della nuova Larianense, è una donna junior con il numero 65, ancora soggettive di quelle che possono essere ovviamente le immagini da bordo bicicletta. Ancora una volta il passaggio delle maglie tricolori di questa categoria donne che davvero ha emozionato e non poco, vanno davvero molto bene queste donne in categoria unica, hanno corso da sole proprio per il grande numero che potevano schierare al via. Un giro d'Italia ciclocross che è stato sicuramente un grandissimo evento. Orvieto chiude questa avventura con sei tappe sullo stesso percorso di 2.900 metri con tre strappi davvero insidiosi per il fango, su quello stesso percorso che sarà poi terra dei campionati italiani di ciclocross del 2014. È un appuntamento di grande soddisfazione e questo credo che alle Eurobici di Orvieto lo sappiano tanto, è un appuntamento difficilissimo nel 2014 però si sono abituati a organizzare belle gare ad Orvieto con grande professionalità, con grande sforzo, con grande amicizia, con grande coinvolgimento di un bel gruppo di amici. Nonostante tutto quello che è accaduto il mese scorso con lo stralipamento del Paglia proprio in questa zona, gli amici di Orvieto sono riusciti a organizzare in maniera perfetta una manifestazione di questo genere. Gran parte di quello che è l'incasso di questa manifestazione è stato devoluto per aiutare chi sta soffrendo e ha sofferto con l'alluvione del Paglia e questo mi pare che sia una situazione da elogiare, di ricordarsi sempre chi è in difficoltà. Eh sì, la nostra Romina quando deve spingere su questo fango va un po' in difficoltà ma guardate come è cambiato il percorso a forza di passarci con con i piedi e con la bicicletta. Anche Giorgia Fraiegari, lei addirittura mette la bici in spalla, brava la Giorgia, grande tecnica, non tira la bici ma se la mette direttamente sulle spalle complimenti davvero alla nostra Giorgia Fraiegari che tra l'altro è figlia d'arte, papà Massimiliano Fraiegari è grande e straordinario campione di questa specialità. e adesso andiamo a vedere con il contagiri come stanno andando le cose in questa gara riservata alla categoria donna unica. Abbiamo visto Eva Lechner numero 80 centro sportivo dell'esercito e vedete in questo momento la sua maglia tricolore davanti a Francesca Cauts, Fassabortolo, Servetto numero 84 in seconda posizione, sono praticamente attaccate l'una all'altra. In terza posizione con la maglia rosa del Giro d'Italia di ciclocross c'è Francesca Cuciniello della Sella Italia Querciotti numero 86 più staccata Vania Rossi numero 81 del centro sportivo dell'esercito e intanto la nostra Laura Sopranzi passa sotto al traguardo. Siamo nei momenti conclusivi di questa gara riservata alla categoria Elite, la categoria donna unica con il numero 162 passa in questo momento Chiara Teocchi dell'Active Bianchi con la maglia rosa e poi ancora un passaggio per la capoclassifica Eva Lechner centro sportivo dell'esercito che oramai ha allungato di 33 secondi nei confronti della sua diretta avversaria Francesca Cauts della Fassabortolo e poi via via pian piano passano tutte le altre con il numero 107 Barbara Pizzuti della Ciociaria Bike mentre ci aspettiamo ovviamente l'arrivo della nostra Eva Lechner con il numero 87 avete visto passare la Elena Valentini della Sella Italia Querciotti Elite con il numero 48 taglia il traguardo con i grossi problemi con la catena vedete che ce l'ha in mano dice non se ne può fare più niente e adesso aspettiamo Eva Lechner con le braccia alzate per la vittoria in questa categoria donna e unica del giro d'Italia ciclocross ad Orvieto nella zona di Ciconia sul parco fluviale del paglia e poi seconda Francesca Cauts Fassabortolo Servetto terza Francesca Cucciniello che corre per i colori della Sella Italia Querciotti con il numero 86 e Vania Rossi con il numero 81 che corre per i colori del centro sportivo dell'esercito e poi quinta Valentina Scandolara della Libertas Scorsè sesta Alice Arzuffi della Sella Italia Querciotti Elite questo è il podio con Eva Lechner Francesca Cauts e Francesca Cucciniello e adesso andiamo con le interviste del fine gara Marco Lelio Fontana protagonista ad Orvieto prima vittoria stagionale nel cross una buona condizione e un grande messaggio che dai con la tua presenza qui ad Orvieto dopo l'alluvione è stato bene l'alluvione è stata una cosa insomma tutti tutti l'hanno vista no logicamente noi a vederla in tv sembra sempre una cosa diversa minore no poi vieni qua ti accorgi di quello che è successo quindi ci mancherebbe sono venuto volentieri a condividere questo sport che è molto bello e niente si è detto bene prima vittoria stagionale quindi è andata bene la condizione sta crescendo ho veramente un migliaio di impegni quindi sono veramente sono veramente preso cerco di allenarmi quando riesco e niente dai insomma comunque sta crescendo ripeto la condizione poi sapete com'è arrivano le feste tutti c'è da fare diecimila cose poi passano le feste ci si tranquillizza quindi se riesco a arrivare a Natale poi è fatta ok intanto un giudizio sul percorso prima di passare agli impegni prossimi il percorso è tracciato molto bene nel senso che è disegnato in modo particolare ma bello tutti questi fossetti che comunque lo caratterizzano poi logicamente le piogge e tutto hanno reso la pista molto lenta no però devo dire che tutto sommato alla fine non era così non era così appiccicoso c'erano dei tratti molto lenti dove conveniva scendere fare due pezzi a piedi per il resto si girava abbastanza bene era duro ma insomma il nostro sport io non ho mai sentito dire che la bici è facile eva leckner della colnago far su tirol subito protagonista nel cross ad orvieto ha confermato un inizio di stagione per te davvero importante cioè già vai forte ancora da poco che gareggi ancora manca tanto ai tuoi appuntamenti sì esatto ho fatto ancora poche gare da poco che sono tornata in bici dopo le ferie però questo è la migliore preparazione mia per la stagione di mountain bike e mi diverto un sacco e per quello sono contenta bene un commento sul percorso davvero impegnativo il percorso è stato davvero molto impegnativo però anche bello tecnico e infatti mi sono divertita oggi bene quindi fatica e divertimento obiettivi prossimi ovviamente cambiato d'italia poi anche coppa del mondo ultimamente hai fatto benissimo anche a rubè nella prova di coppa del mondo si è andata già abbastanza bene adesso la prossima fine settimana ci sarà la prossima coppa namo e poi 26 quella di zolda e si poi a gennaio l'italiani altre due coppe con quella di roma e auga haile poi il mondiale bagna rosso centro sportivo esercito una grande prova gli sito bene la gara anche perché l'obiettivo era conquistare la maglia rosa e ovviamente portare a casa un traguardo importante sì sono molto contenta di aver portato a casa anche quest'anno questo giro d'italia e ci tenevo molto a fare bene e oggi anche se non sono andata proprio perfettamente sono riuscita a portarla a casa e questo è l'importante quindi risultato acquisito ma ora si guarda sempre al futuro quindi orvieto sarà poi il scenario degli italiani nel 2014 dai un giudizio che è una lunga esperienza insomma nel cross a livello tecnico di questo percorso sì quest'anno era un po più pesante impegnativo mi piaceva più sinceramente l'anno scorso quando era asciutto comunque è un ottimo percorso che è un ottimo percorso